Salve, sono Racheli Zinzocchi. Perché sono importanti i bot in Telegram? Telegram perché? Perché ti risolve la vita, perché è la risposta alla domanda fondamentale oggi. Come fare business oggi, appunto, in tempi di crisi, tramite il digitale e in particolare tramite i bot di Telegram, che servono però non solo per il business, ma per tutta la società, quindi non solo a beneficio nostro, ma appunto della società tutta, sul piano dell'educazione, dell'informazione, oggi tanto nel minino, giustamente, col discorso delle fake news, sul piano della, come dire, ecco, delle istituzioni. Pensiamo ai bot, appunto, del nostro collega Pierre Soft, Costituzione Italiana Bot, pensiamo addirittura alla spiritualità, Vangelo Bot, e così via. Esiste un canale Telegram, qui parlando di un canale per un momento, che si chiama Good Morning, e che è curato dalla pastorale giovanile Pompei, benedetto, si va per dire dal Papa, che ti accompagna nella Quaresima e nell'Avvento. Insomma, su tutti i piani, sul piano business, sul piano marketing, sul piano educativo, istituzionale, dell'informazione, dell'educazione, della spiritualità della persona, i bot di Telegram, a costo zero, possono ottenere e dare ROI, da tutti i punti di vista, cioè il successo al 100%.